Ciao a tutti ragazzi, sono Vero93. Allora, ho fatto una mini spesa di roba mia e ho comprato questo è un sacchetto della farmacia. Mi sono piuttosto che dà roba in farmacia. Ho portato uno, due sacchetti ma con poca roba. Uno e due, c'è anche Kinder qua vicino, qui sottofondo. Allora, dobbiamo fare un posto in farmacia. Questo ciucciotto, a me piace un casino, no? Perciò vediamo per chi, no? Per me praticamente, che faccio colazione di ciucci. Sì. Questa è la propria scatolina, con questa. Il caucciuccino è piccolo. È di un mese, massimo. Poi, sempre in farmacia ho comprato. Questa, carina, natalizia. E quelle bianche mi mancava, infatti non le ho prese, ma non le ho prese, ma va bene, lo stesso. Di Natalizia, è una cosa fichissima. Ma, a me piace. Poi, in cartolieria, ho preso. Vabbè, una penna così bella, costo 4,90 euro. E due pop-it a omino e poi a cuore. Basta, le spese sono completamente finite, raga. Quindi, come sempre, vediamo un prossimo video. Ciao.